Mauro Casinghini si presenta e lui il nuovo direttore dell'Agenzia Abruzzese della Protezione Civile. Nominato dalla Giunta Regionale a fine agosto, Casinghini è romano come il presidente Marsilio. A 50 anni attualmente ricopre l'incarico di direttore generale del Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta. È laureato in coordinamento delle attività di protezione civile e successivamente in rischio ambientale e protezione civile. Il nuovo numero uno della protezione civile regionale ha già operato in Abruzzo a seguito del terremoto dell'Aquila nel 2009 e di quelli successivi del Centro Italia. Al momento fa parte del supporto al Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza epidemiologica. L'incarico a capo della protezione civile abruzzese gli è stato conferito tramite un avviso di selezione pubblica e avrà la durata di tre anni. Io torno a lavorare per l'Abruzzo, per questa magnifica terra e per questa accogliente collettività. Lo faccio iniziando proprio dal ricordo di tanti volti, di tanti volti sofferenti che si sono incrociati con il mio sguardo per le tante emergenze che drammaticamente sono succedute su questo territorio. Abbiamo avuto dei rallentamenti a causa del Covid, ha detto il governatore Marsilio in conferenza stampa, ma la riforma della protezione civile rimane uno dei punti più importanti del nostro programma. Casinghini, ricorda Marsilio, l'ho conosciuto da giovane durante il servizio militare. Come una priorità quella di affrontare i temi che riguardano la protezione civile che purtroppo ci investono sempre quando arriva l'emergenza, la tragedia, il cataclismo, allora tutti si accorgono che senza protezione civile staremo tutti inguagliati e che invece con una protezione civile efficiente magari si prevengono pure almeno alcuni di questi cataclismi e di queste tragedie.